Valentino Fabrizio Ferrante è stato riconfermato come presidente dell'ente porto di Giulianova per i prossimi quattro anni. La sua rielezione non era affatto scontata, soprattutto a causa di vicende legali che avevano messo in dubbio la sua posizione. Un riassetto che ha suscitato però forti critiche da parte della Commissione Pari Opportunità di Giulianova, questo per la mancanza di una donna nel Consiglio di Amministrazione dell'ente porto. La CPO ha dichiarato il proprio dissenso sottolineando che l'esclusione di una figura femminile rappresenta una violazione del principio di parità di genere. Come Commissione Pari Opportunità siamo basiti su quello che è accaduto a 13 anni dell'entrata in vigore dalla legge Golfo, che è in Acque, proprio per riportare un riequilibrio di genere all'interno del CDA. Non abbiamo parole, ci auguriamo che questa posizione venga rivista, anche perché in passato nel 2017 la CPO di Giulianova con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Termo fece una lunga battaglia con l'allora presidente Marco Verticelli, il quale nel Consiglio successivo ci fu la rappresentanza femminile. Abbiamo donne preparate che possono ricoprire quel ruolo. Noi ci auguriamo che sia il Comune di Giulianova ma tutti gli enti consorziati che fanno parte dell'ente porto tornano sulle posizioni e ciò venga modificato. La presidente della CPO giuliese, Marilena Andreani, ha auspicato un intervento deciso da parte delle commissioni provinciali e regionali per ripristinare un equilibrio di genere all'interno dell'ente porto. Una tematica questa che verrà anche portata all'attenzione del prossimo incontro organizzato per il rinnovo dei componenti della CPO provinciale. Portata a conoscenza anche Maria Franca D'Agostino, la presidente della Commissione Pari Opportunità della regione Abruzzo, perché questo non è che coinvolge Giulianova ma proprio a donna. D'altra parte il mondo è formato da uomini e donne, abbiamo donne competenti e uomini competenti, come ho detto prima, ma d'altra parte c'è un'anelge, questa anomalia è grave perché l'endeporto così ha mancato di rispetto a una legge dello Stato.